buongiorno e buona domenica a tutti dal brizzer park parco di britz voglio raccontarvi qualcosa di questo spazio immenso è un parco per così dire artificiale nel senso che è stato creato dopo l'utilizzo di un enorme spazio come fiera fioristica la buga ce ne sono ogni tot di anni qualche luogo della germania varie e una volta che si usano questi spazi per esposizione fioristica poi li si allestiscono come grandi parchi pubblici britz e al sud del quartiere di noi col il quartiere adesso più giovanile più alternativo vecchio quartiere operaio questa però è la zona vari chilometri più a sud è una zona più verde con case residenziali e quindi si è approfittato di questo enorme spazio per pianificare uno dei tanti parchi e adesso in questa meravigliosa domenica di sole con un cielo terzo due tre gradi sotto zero di massimo alla neve che risplende il lago ghiacciato che abbiamo dietro di me i vari locali bar ristoranti ovviamente tutti chiusi in questa fase di lockdown sono nonostante pieno di famiglie con bambini che vanno con gli slettini dappertutto non è l'unico spazio appunto della buga berlino ultimamente c'è anche quella del profondo est di marzan britzergarten un ingresso a pagamento ma molto economico due euro a persona come se non bastasse per tutte le foreste i parchi già comunque naturali esistenti anche quindi questo altra tipologia di parco qui nel sud est di berlino saluti a tutti e buona domenica